Io sono rinata il primo di agosto. Paola Pizzo, 53 anni, di Fiesso d'Artico parla di rinascita, parola che sembrava così lontana quando 14 anni fa le viene diagnosticata una cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva. Le sue condizioni di salute anno dopo anno peggiorano. Praticamente a giugno di quest'anno io non riuscivo più a camminare, non respiravo, non riuscivo a dormire, ho dovuto lasciare il lavoro. Le viene consigliato di sottoporsi ad un esame specifico per valutare le sue condizioni di salute. Il sospetto era che io avessi una resistenza polmonare, questo implicava l'impossibilità di effettuare qualsiasi tipo di operazione. A quel punto inizia il suo peregrinare tra varie strutture, anche fuori regione. Dopo un cateterismo per verificare i livelli di resistenza polmonare viene riscontrata una situazione gravissima, etichettata come irreversibile. A luglio viene ricoverata in un altro ospedale per eseguire un nuovo test polmonare, esame che non viene però effettuato perché è ritenuto troppo pericoloso. È a questo punto che Paola arriva al Caffoncello dove conosce l'equip che la seguirà fino all'intervento. L'unico che mi ha accolto ed è stato umano, professionale, coraggioso è stato il dottor Giuseppe Minniti, direttore della cardiochirurgia dell'ospedale di Treviso. Mi ha parlato e mi ha spiegato ogni tipo di rischio a cui io andavo incontro e a cui loro andavano incontro. Insieme abbiamo accettato. L'esito ha sovvertito il primo risponso e io ho potuto operarmi. Il primo di agosto io ero già operata e adesso sto benissimo. Faccio tre chilometri a piedi, dormo, respiro e ho una vita completamente nuova. Dopo un mese i medici parlano per la paziente di un recupero eccezionale. Paola Pizzo ha scritto una mail alla nostra redazione per far conoscere la sua storia, per ringraziare i dottori per la loro umanità e professionalità, ma anche perché sia da esempio per altre persone. Ma soprattutto voglio dire alle persone a cui viene tolta la speranza di non perderla.